E quindi dobbiamo fare l'intro o fate subito così? Facciamo l'intro, allora te la faccio io, ragazzi, faccio come nei telegiornali, guardo prima una camera e dopo l'altra Esatto, perché sono due telecamere, oggi professionalità, nonostante c'è questo scarto umano e quest'altro Ciao a tutti, oggi sono ospite nel canale di Sinuno Walkout Siamo quelli del telegiornale E siamo quelli del telegiornale, infatti mi faccio guardare una e la camera una Sì, però se guardi in continuazione così, io proprio con il montaggio Dammi la due, dammi la uno, avevo già aggiunto tre minuti di video Va bene, infatti, oggi Bolero Challenge con questi due ospiti speciali Devo essere già in pausa, via Questo già è partito Sì Vabbè, sapete come funzionano le regole, solo che anziché fare cinque gusti ne facciamo soltanto tre Visto che è una tripla sfida, non è una doppia sfida come al solito, ma è una tripla sfida Quindi direi di partire subito, ci sono tutti i Bolero, ci sono tutti i scatoloni Mettimelo in bocca Parte lui? Ok Non hai mai più dovuto un Bolero Ah sì, ragazzi, ci tengo a precisare che non ho mai bevuto un Bolero in vita Quindi questa gara è uno schifo da subito, perché come farò a dimmi? Che cappa? Lo stavo controllando che non ci vedessi Come? Che ci vedo? Sono una benda negli occhi Che ci vedo? E quindi non so come farò a indovinare i gusti È una gara truccata fin dall'inizio, perché non sapendo che gusti esistono Hai tre tentativi? Sì Però non ci devi mettere troppo tra un tentativo e l'altro a pensarci Poi tranquillo Io lo indovina Lo indovina? Ma sto infame, sto infame ha detto che non li conosce e ora lo indovina Ma sai che indovina il gusto? Anguria Ah ma non è anguria Non è anguria Ma già ne è fallito uno senza saccarlo Bravo, bravo Così stivo Ceri, sentivo Ceri, ma mi piace una cosa Ceri Non è ceri? Un cavolo Perché esiste un gusto che si chiama ceri Dimmi, dimmi qualche gusto, veloce, veloce Dimmi qualche gusto Ma che cavolo, scusa, non si gioca così Ah no Non li so Vai Stai dritto Stai stesso Allora, ti do un indizio È uno dei miei preferiti in assoluto Dai Dai Melone Ah Non tacci no È zecchato Un punzo per il ceri Ah Sì, glielo prezzi L'abbiamo praticamente detto Proxime Secondo me Non la zecca Durerà mille minuti sto video Quindi devo farlo durare meno di mille minuti Ma a 999 Vabbè Dai Limone Non è limone Tu cazzo Mi hai fatto il limone Dai Ti sei andato vicino Dai Ma che posto Stroberry, no? No Che colore è? Spara Tanto hai fatto un punto e non è poco Però perché lui non sa l'idea È viola È viola Guarda che non sa l'idea Siete convinti di aver detto No Ciliegia Non è ciliegia e dai Ok, ok, ok Ok, ok Un peccato Un ho sbagliato Ma avevo un altro Accentativo No, no La 23 Hai detto Limone, strawberry Sì, sì, è una 23 Ok, passiamo al prossimo Quindi erano 3 Ah, vabbè, come lo dire Allora, Oni e me non li togliamo tutti perché già è stato messo Che schifo di vita Allora, adesso gli do questo Dammi da uno Questo qua ha un bellissimo gusto Ok Aspetta che ci chiamo Sì, mescoliamo Aspetta Lo mescoliamo Questo non lo doviniamo mai Questo è difficile Ah, perché gli altri mi dovino Vai 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 Che cazzo di che mi avrei messo acqua e basta Crepito Allora, è un frutto Sì, per cazzo Sì, per forza Il bolero è una pasta Guardami Che cazzo ridete Mi avete chiusato in bocca Prima cosa Porca puttana Ok, basta Due punti hai fatto Basta, va via Ah, la luce Ah, Giovanni è ancora più brutto Allora, prima la faccio vedere da 1 Sì, è un'ora dei video È facile Giovanni mi dovranno decisi Rimetti errati Oh, però Giovanni, sei da me Oh, Giovanni Oh, Giovanni, io ti ammazzo Giovanni Giovanni Oh, lui Rosica perché ha perso Rosica perché ha perso contro di me Non poggiura Eh, vai Lo sto mescolando qua È un sacchetto vuoto Fermati Siete degli infanti Se mai avete messo un busto difficile No, te l'ho scelto io Il busto non fa essere difficile Arancia rossa no da ma che non è facile cosa non c'è risolva ma che colore è ridotto davidizio però che ho detto color cioccolato non esiste il color cioccolato non esiste marroncino ma che è cola no 3 via perso qualcuno era facile lo assaggio che sta succedendo io che telecamera ma è stranissimo ma come faccio a indovinare questi gusti ma che cazzo sono tuoi polero sono tuoi non li ho mai venuto in vita ma basta impazzito ma che è sta cosa c'è ricorda non ti l'ha detto è uno si uno non ce l'ho chiesto l'ho fatto solo perché mi fa perché sono ancora ospite ora sbagliato via no è sbagliato ma che è oggi oggi sto non sto in condizioni ragazzi dovete sapere che ha dormito solo due ore perché lo diremo in un altro video professione comunque abbiamo dormito tutti due ore di solito sono molto più bello è il limone no fermati è l'ultimo perché hai perso dopo non hai indovinato neanche uno è colore è colore cioccolato io che non ne bevo mai mi ho indovinato i due lui due io zero non lo so ok poi c'ho ancora il gusto di quell'acqua tieni attenzione oddio cos'è dai aspetta un secondo è tipo qualcosa di rosso si brava brava tipo no ma è fuoco almeno fuoco fuochissimo vabbè si impossibile non è fuoco però è fuoco lo ricordo cos'è mirtillo dicono ma tanto lo scrivi sotto è similissimo al mirtillo cioè è quasi identico mora no è prugna scusa non è simile il mirtillo la prugna vabbè per la ragione della frutta anche la banana è simile la fragola perché sono frutti è facile questa è vergognosa questa amore ma il cucchiaino dove sta? eccolo qua scusa perché intanto finchè giocate io bevo prendi un'acqua Gio che abbiamo finito l'acqua no 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 c'è la famo è l'ultimo bicchiere c'è la famo c'è la famo c'è la famo Gio c'è una big bubble che cos'è? si brava hai detto il primo che hai sbagliato che è il quarto al secondo ma brava perché mi dici brava? perché hai sbagliato? no perché per me della figurina sembrava una big bubble ma no 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 ma che cazzo mi avete dato? no oh senti è un gusto che vuole volerla ai panna ahahahahah ma che cazzo ciò? sembra il star big bubble è un'altra volta dove sta per faiare hai vinto non ti ha caso è rosso il gusto fin inizio di questo non sei po' se è volero è volero ed è rosso anguria no? due errori? due errori due angurie ma gli ha il testo di sicuro ti ha giuditi la vittoria eh sì eh sì che cazzo mi ha fragola dai ho vinto hai vinto però ferma fermati perché dobbiamo giocarsi l'ultimo posto ma potresti dirmi che cos'è? è a net grave puoi sentire? ah gradevole nice telecamera mmm delicious la sene sta giocando a candy crash vedi tempo in tempo abbiamo qui un litro e mezzo un litro e mezzo un litro e mezzo questo gioco è stupido ci fai caso? 8 minuti a persona abbiamo fatto non è già quanti 3 no? sì ma no lei ti è più di 8 minuti perché ci sta mettendo la vita per scegliere no scusate guarda che tu ci hai messo 10 minuti questo questo è il più facile di tutti questo è impossibile da sbagliare vediamo l'indizio non è torrone non è torrone non è torrone non è torrone arancia no? no però ho indovinato il colore però vedi se fai più sparata c'ha azzecchi dai che ci giochiamo all'ultimo posto arriviamo pari se sbagli arriviamo un po' ai secondi però sul podio non so come è una grume si e che cos'è tipo è una grume non dite indizi che mi sto giocando l'ultimo posto sto fermo DAIEE arrivata l'ultimo insieme a me era la papaya facilissimo ma che non era una grume la papaya ma ti ho detto che è una grume qualche cosa io pensavo di sì serio l'ho detto l'ho detto è facile ma quanto sei leso comunque ragazzi questo video fa più schifo di quello che pensavo primo posto purtroppo lui come perchè purtroppo sono merda io è la prima volta che perdo amore sei stato bravissimo si quindi primo posto lui secondo posto io perchè ha per differenza reti e terzo posto perchè comunque sono una donna e devo stare comunque per ultimo qualche scapparimento quindi abbiamo proprio classifica primo secondo e terzo quindi spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un like iscrivetevi al canale di nerdi mio basta che ti fa male la pancia dopo ah scusa e poi che dobbiamo dire cin che dobbiamo dire cin cin ci vicini alla salute grazie grazie a tutti per averci sopportato scarica allora dobbiamo dire vabbè ci vediamo ci vediamo nel prossimo video su questo canale iscrivetevi mettete like e ditegli che è un bravo bravo ragazzo dai anche se no il problema è chiusa posto ok ciao